Buongiorno a tutti! Oggi prepariamo fagiolini con patate. Quindi puliamo i fagiolini. Abbiamo pelato e tagliato a pezzetti le patate. Le prepariamo a vapore. Si possono fare pure bollite, però facciamo a vapore. Mettiamo prima le patate e poi sopra mettiamo il fagiolino. E appena l'acqua bolla, le mettiamo sopra l'acqua. Bene, l'acqua bolla e mettiamo i fagiolini e le patate sopra. Ok. Le copriamo. Bene. Dopo una ventinaia di minuti è pronto. Si vede, sono per limottili. Possiamo spegnere e mettere e condire. Possiamo mettere in una coppa i fagiolini. Vai, gira tutto, rovescia tutto. Rovescia tutto. Ottimo lavoro. Ecco, aspetta. Ne manca uno. Facciamo raffreddare un attimino. Allora, procediamo a condimento. Vai. Ok, per prima cosa? Tanto tutto bene, mettiamo l'aglio. Mettiamo il sale. Olio. Quanto? L'olio non è mai troppo. Va bene. Ecco qua. E l'aceto, infine. Un po' di aceto. Ok. E qualche fogliolina di menta. Ottimo lavoro. E ora? E ora? E ora? Speriamo, Rosa. Eh? Che speriamo? Che vega buono. Che? Il piatto. Ah! Mi si è. Speriamo che il piatto vi sia piaciuto. Arrivederci. E... Mi affogo. E al prossimo video. Ok. 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 Ok.